Ciao amici! Sono appena tornato a casa dal lavoro e ho trovato questo pacco di Amazon. Cosa dite? Ci sarà l'Action Cam G4K di Xiaomi? Però vi devo dire una cosa, sono troppo stanco, non penso proprio che lo aprirò oggi, perciò guardate il prossimo video. Mi dispiace, non ce la faccio. Non ce la faccio proprio. Forse domani. Forse. Ciao! 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 Ciao!